Buongiorno, sono Gianfranco Farimbella, l'agronomo delle tenute Selle Mosca. Voglio farvi una panoramica dell'azienda. L'azienda è stata fondata nel 1899 da due persone di Piemontesi di Biella. Oggi l'azienda ha 550 ettari di vigna. Le tenute Selle Mosca hanno optato la scelta dell'utilizzo dell'ala gocciolante, abbandonando l'aspersione per vari motivi. Uno è riduzione di utilizzo di quantità di acqua a ettaro, migliore efficienza e soprattutto con l'aspersione si creava un microclima che creava dei grossi problemi alla sanità della pianta stessa. L'utilizzo dell'ala gocciolante Netafin è facile da utilizzare, facile da pulire e ogni anno la Netafin abbiamo riscontrato che ha creato prodotti sempre migliorativi. Le tenute Selle Mosca collaborano da circa 20 anni con il gruppo Netafin. Oltre all'acquisto dell'ala gocciolante acquistiamo anche filtri per ogni settore di ogni campo e abbiamo tre stazioni di filtrazione in tutta l'azienda con i filtri Galaxy. Netafin ci ha aiutato moltissimo nel fornirci prodotti sempre migliorativi. Ogni anno ha sempre migliorato la qualità dei suoi prodotti. Netafin per la Selle Mosca è un partner e come per tutti i partner ci aiuta a migliorare il nostro business.